Siamo con il Vicepresidente della Società Italiana di Pediatria. Per parlare del pediatra in sinergia con le altre figure professionali, che cosa vuol dire? Vuol dire che il pediatra è il medico che ha in cura il bambino, è l'internista del bambino, ma non solo. Quindi deve occuparsi della salute, ma anche di fare in modo che ci sia il benessere. E quindi è molto importante che il rapporto con tutti gli specialisti d'organo o che si occupano di problemi particolari sia molto stretto perché lo scambio di informazioni tra il pediatra e gli specialisti è fondamentale. Per quanto riguarda i disturbi e l'età evolutiva, secondo lei c'è da fare nella pediatria, nell'ambito di voi pediatri come formazione o altro? Spazi di miglioramento ci sono sempre. Comunque da parte dei pediatri c'è sempre stata molta sensibilità a questi temi che sicuramente sono molto rilevanti e lo stanno diventando sempre di più anche per dei motivi sociali, organizzativi. E quindi è importantissimo essere aggiornati, parlarne e questo avviene tra pediatri, ma chiaramente è ancora più importante che avvenga con chi specificamente si occupa del campo per avere effettivamente degli aggiornamenti reali perché il compito del pediatra è proprio quello di cercare di individuare precocemente le situazioni per poi indirizzare il bambino a chi di competenza. Quali sono le criticità da affrontare? Ma sono quelle innanzitutto di riuscire a identificare quanto più precocemente il bambino che manifesta dei disturbi di tipo comportamentale o di altra natura e poi fare in modo che la famiglia ne abbia coscienza perché questo è il presupposto indispensabile per poi affrontare la situazione e con l'aiuto di chi è competente risolvere il problema. Grazie. 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 Grazie.